La stagione dei morti Due soli erano i giorni dedicati alla memoria dei morti. Eppure, quando si pensava al lento, progressivo passaggio tra l'autunno incendiato di colori e il rigido inverno, si diceva la stagione dei morti. Perché? Forse perché le foglie che cadono ci ricordano i corpi che si staccano dalla vita? O perché ormai la nebbia diventa padrona e i giorni si fanno sempre più corti? O ancora perché un tempo, e se ne era certi allora, gli anziani morivano più facilmente in quel mese? Magari perché qualcosa muore anche in noi alla fine dei mesi pieni di vita e di frutti? O è la campagna che sembra vestirsi al lutto? Forse per tutto questo insieme, ma era la stagione dei morti soprattutto perché a essi si pensava più intensamente. Si aveva non solo la consapevolezza, ma anche la sensazione, direi quasi fisica, che delle generazioni ci avevano preceduto, lasciandoci qualcosa, e che quindi noi eravamo debitori verso quanti erano già morti. L'avvenire non esisteva ancora per noi, lo potevamo sognare, ma il passato era una realtà indubitabile. Buona o cattiva, bella o brutta, esisteva, e al passato appartenevano i morti, soprattutto i nostri morti. Ecco perché ricordarsi di loro era una doverosa questione di fedeltà. Si trattava di riconoscere che quelle persone non erano vissute in vano e che per noi contavano ancora. Non che tutti i morti fossero di buona memoria, ma non erano certo pochi quelli che non si voleva dimenticare fino a desiderare di farli in qualche modo rivivere. Il rispetto comunque c'era per tutti i morti, perché se in vita erano stati amati, continuavano ad esserlo anche una volta che non c'erano più. Se invece erano stati nemici, avevano cessato di esserlo morendo. Paradossalmente, proprio la morte riconosceva quella dignità che spetta a ogni essere umano al di là dei suoi comportamenti. Fedeltà, riconoscenza dunque per i nostri cari, e pietà, rispetto, per tutti gli altri. Ciò che a me bambino pareva straordinario in quegli ultimi giorni di ottobre era l'andare come a passeggio per raggiungere il cimitero, luogo di silenzio e di pace. Lì gli uomini ripulivano dall'erbacce le stradine d'accesso alle tombe, mentre le donne lavavano le lapidi di marmo togliendo muschi e muffe. I tumuli che segnavano le sepolture più recenti erano trattati con ancora maggior cura. La temporanea assenza di una pietra funeraria affidava le nude mani nei parenti il compito di dare onore al defunto. Così quel mucchio di terra smossa era accudito con delicatezza estrema, sembrava quasi che si volessero rimboccare le coperte del letto attorno a un corpo troppo presto divenuto cadavere. Poi, al primo novembre, i fiori spuntavano dappertutto, rivestendo di festa le tombe e trasformando le facciate dei loculi in pareti variopinte. Il terreno veniva trasformato in un tappeto floreale con disegni e greche, come alla festa del Corpus Domini, quando il prete solenne incedeva su quei ricami vegetali, portando l'ostia consacrata in uno stensorio raggiante d'oro e d'argento. Vi era in questo una cura tutta particolare, un'attenzione per certi versi sorprendente. Anche chi non aveva mai donato un fiore a qualcuno mentre questi era in vita, ora compiva il gesto con convinzione. Si piegava docile alla preziosità di quel segno di umano rispetto. Solo col passare dei decenni, non degli anni, qualche tomba restava abbandonata. Nessuno dei parenti, se ce n'erano ancora in vita, se ne prendeva più cura. Non era raro, allora, vedere persone estranee al morto, farsi carico di quella tomba dimenticata, quasi che l'oblio di un angolo di cimitero macchiasse l'armonia dell'insieme. Così nessuno era trascurato, nemmeno quanti erano vissuti soli e soli erano morti. Chi non aveva avuto o non aveva più né figli né parenti era adottato, fosse solo per quei giorni dei morti, dal paese intero. Lo si percepiva come un dovere morale. Quanti avevano vissuto prima di noi meritavano un pensiero di riconoscenza. Era una memoria silenziosa ma capace di gratitudine. Si riconosceva che ciò di cui godevamo, una certa libertà, una giustizia che si faceva strada, un addolcimento della durezza dell'esistenza, era frutto delle fatiche di quei morti, dei loro sacrifici, della capacità di alcuni di loro di battersi per una causa che riguardava tutti, del loro mostrare con i fatti di aver avuto una ragione per cui era valsa la pena vivere e anche morire. Oggi i sociologi sostengono che le nuove generazioni sono senza memoria perché non è stata trasmessa loro un'eredità o perché è divenuto difficile discernere e recepire l'esistenza stessa di beni da ereditare. Ma credo non ci siano generazioni migliori delle altre. C'è invece il dato che oggi i morti si dileguano presto. Non ci diamo più il tempo per ricordarci e aver cura di loro. Siamo ricchi di tante cose ma poveri di tempo e di spazio per quanti abbiamo amato. Già Napoleone aveva voluto allontanare le tombe dal vissuto quotidiano spostando l'originale collocazione attorno alla chiesa o sotto di essa per confinarle nei cimiteri e ai margini dell'abitato. Oggi con la pratica della cremazione e la successiva dispersione delle ceneri nei fiumi nei laghi nei mari tra i boschi si crede di rendere omaggio alla natura e di mettere i resti del defunto in una comunione cosmica ma in realtà li si estromette ancora di più dal nostro mondo. Chi muore non è più nel tempo non appartiene più al tempo ma grazie alla sepoltura permane un luogo che consente di dire è là. Negare questo spazio fisico identificabile significa rendere i morti utopici senza luogo. E' paradossale la notte di cui tutti facciamo esperienza vedendo morire gli altri e morendo noi stessi diventa utopia senza luogo come se potesse per questo diventare irreale scomparire dal nostro orizzonte. Nella cura anche fisica per i nostri morti è in gioco invece la nostra umanizzazione che non è solo vita nell'attimo presente ma esistenza inserita in una storia che ci precede ci attraversa ci sorpassa come le tombe dei nostri morti rafforzano in noi la realtà la memoria e la grazia della loro presenza nella nostra vita e la consapevolezza della nostra propria morte così anche noi siamo aiutati a vivere quest'ultima come un dono di memoria per quelli che restano o verranno dopo di noi. Anche in questo modo è possibile rendere più abitabile questa terra che amiamo e lasciare il mondo un po' migliore di come la nostra